Dovete sapere che quando la nostra mente è presa da un problema, quando abbiamo un problema e quando tutto il nostro potenziale intellettivo è assorbito da questa questione, in genere compare un sogno, l'inconscio produce un sogno che è un'istantanea della situazione, riesce a rappresentare ciò che sta succedendo attraverso i simboli. Ecco perché i sogni ci aiutano a comprendere delle verità profonde, che possono anche sembrarci paradossali. L'io non ama i paradossi, ama la razionalità. I sogni invece ci portano, ci offrono una verità che l'io non riesce a vedere. Una di queste verità, a detta di Freud, è che noi possiamo essere liberi soltanto se accettiamo i nostri desideri peggiori. Uno di questi desideri peggiori è l'incesto. Ora, questo sconcertò tutti i contemporanei di Freud quando Freud cominciò a parlare dell'incesto, però a noi non ci deve stupire perché la psicanalisi ci mostra come nessun'altra pulsione è stata tanto repressa sin dall'infanzia quanto quella sessuale. Freud sottolineerà per tutta la vita questo aspetto e dice che di nessun'altra pulsione rimangono desideri inconsci così forti. E se noi non apriamo gli occhi su questa realtà rischiamo di diventare nevrotici. Siamo nevrotici? Quando vogliamo eclissare la realtà. L'eziologia comune che determina la nascita della nevrosi o della psicosi rimane la frustrazione, cioè il mancato appagamento di uno di questi indicibili desideri infantili che hanno appunto radici profonde, radici nell'infanzia. I desideri insoddisfatti però sono anche la forza motrice della fantasia e quindi alimentano i sogni. I sogni attingono energia dai desideri insoddisfatti. Ora il contrario, il contrario della fantasia presente nei sogni non è ciò che è serio. Il contrario della fantasia è la realtà, ciò che è reale. E allora che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che se vogliamo adattarci creativamente alla realtà dobbiamo recuperare una dimensione infantile particolare che è la capacità di entrare in contatto con la propria parte infantile, bambina, col proprio bambino interiore. E la ragione per cui la ricchezza non porta alla felicità, sapete qual è? Sta nel fatto che il denaro non è un concetto infantile. Il denaro non è un concetto infantile. Chiediamoci piuttosto cos'è che ci rende veramente felici. La psicanalisi ci spiega che per essere felici dobbiamo cercare un compromesso tra immaginazione e realtà. Fantasia e realtà, sogno e realtà. Ci vuole un meccanismo di difesa evoluto, un meccanismo di difesa, come la creatività, complesso raffinato che funga da compromesso tra immaginazione e realtà. Se la realtà opprime il neurotico, allora il neurotico può realizzare se stesso attraverso la creatività. La creatività è già un compromesso che riesce a trasformare in realtà le nostre fantasie, i nostri desideri inconsci. La creatività trasforma in realtà i desideri inconsci. E non a caso tutti i grandi uomini conservano questa straordinaria dote infantile, la creatività. Se volete approfondire questo discorso molto più complesso di così, vi rimando ad una playlist con centinaia di video dedicati alla creatività psicologica, che troverete nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata, consulenze telefoniche via mail. Se volete richiedere una consulenza psicologica, dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando i vostri orari preferiti, il nome e il cognome. Vi ricordo anche che ho scritto quattro libri che approfondiscono il tema del narcisismo, della manipolazione affettiva, dell'autorealizzazione e questi libri si trovano solo su Amazon. Buona giornata.